Il superuomo. Quando Zarathustra venne nella città più vicina che sorgeva accanto alla foresta, vide molta gente radunata sul mercato, poiché era stato annunciato che un uomo avrebbe ballato sulla corda. E Zarathustra così parlò al popolo. Io vi insegnerò cos'è il superuomo. L'uomo è qualcosa che deve essere superato. Che cosa avete fatto per superarlo? Tutti gli esseri fino ad oggi hanno creato qualcosa che andava al di là di loro stessi. E voi invece volete essere la bassa marea di questa grande ondata e tornare ad essere bestie piuttosto che superare l'uomo? Cos'è la scimmia per l'uomo? Qualcosa che fa ridere oppure suscita un doloroso senso di vergogna? La stessa cosa sarà quindi l'uomo per il superuomo. Un motivo di riso di dolorosa vergogna. Ecco, io vi insegnerò a diventare superuomini. il superuomo è appunto quel mare un cui si può perdere il vostro grande disprezzo. Nietzsche così parlò Zarathustra. Pagina 242-243 passere attenzione adesso è spezia un colore decennale. Non ci si può perdere il mio mondo per ilftimizio che si può perdere! Passere prima disontane l'uomo si è spimmeggata. Siamo state guardate. Siamo leggendo il blancheeổiils,